lorenzo fragola ai riflettori le media e del pubblico puntati il cantante di catania che compie 21 anni il prossimo mese di aprile ha impressionato tutti con la strabiliante vittoria da x factor 2015 ed il grande successo discografico delle sue canzoni the reason why e siamo uguali con cui lo scorso anno a sanremo si è classificato solo al decimo posto lorenzo cerca la consacrazione in questo festival ed il suo definitivo decollo verso un'elite di cantanti che possono occupare i piani alti delle classifiche di preferenze musicali infinite volte è la canzone con cui lorenzo fragola affronta la kermess di sanremo edizione 2016 mentre nella serata dedicata alle cover canta alla donna cannone di francesco de gregori il testo di infinite volte racconta di un amore finito ma non ancora dimenticato per gli esperti di scommesse lorenzo fragola è uno dei cantanti favoriti per la vittoria finale nella sezione big e la sua quota è di cinque volte la posta superiore solo a debora iurato e giovanni caccamo dati come super favoriti ed al pari di noemi anche lei quotata cinque volte la posta ciao a tutti ciao a tutti